Economia come? Per me economia in versi, in musica. Economia come strumento per cambiare la società se è economia buona. Come assicurare la crescita, lo sviluppo e il benessere in un mondo sostenibile e dedicamente rigoroso. Economia come? Cioè economia com'è, con un apostrofo e un accento, e non come spesso sembra che sia o ci viene raccontato bene. Economia al servizio delle nostre comunità, economia attenta, attenta alle persone. Io direi umana, il rischio è che sia disumana e alla fine anche cattiva. What should be the relation between economics and ethics? What should be the role of money and markets in a just society? Siamo di fronte a sfide gigantesche. L'innovazione tecnologica porta opportunità, ma anche grandi rischi e grandi paure. E si possono affrontare solo se vogliamo giocarlo in attacco, investendo molto, investendo non vuol dire solo sulle tecnologie, ma anche sulle persone. Come dice Dickens, cioè se hai un reddito anno di 20 sterline e ne spendi 19 sarai felice, se hai un reddito anno di 20 sterline e ne spendi 21 sarai infelice. Più donne al vertice dell'impresa e più donne nei ruoli chiave dell'economia. Giusta, donna. Economia come fallimento, ripartire dopo un fallimento per creare valore. Economia come l'imprenditore che diventa imprenditore e che non nasce imprenditore. Con i giovani come digitale, innovativa, coraggiosa.